Abbiamo visto dunque il sistema energetico, passiamo ora al secondo dei sistemi, quello che hai scoperto immediatamente dopo, un altro sistema straordinario, importante, quello simbolico, asta, cerchio, triangoli, questi simboli sempre presenti nella nostra vita. Sì, dunque questo sistema di comunicazione analogica, ossia emotiva, quello del simbolismo, asta, cerchio, triangolo, prende consistenza dal nostro vissuto infantile adolescenziale, dal nostro rapporto con i nostri genitori. Gli elementi che entrano in gioco sono tre, perché due sono i genitori e il terzo elemento siamo noi, nell'interazione genitoriale. Abbiamo visto dunque il sistema energetico, passiamo ora al secondo dei sistemi, quello che hai scoperto immediatamente dopo, un altro sistema straordinario, importante, quello simbolico, asta, cerchio, triangoli, questi simboli sempre presenti nella nostra vita. Sì, dunque questo sistema di comunicazione analogica, ossia emotiva, quello del simbolismo, asta, cerchio, terminale.